Musica Ben ritrovati con il TG Venezia di Caffè TV 24. Nelle scorse ore gli agenti della squadra mobile di Padova hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo nei confronti di una cooperativa di Vigonza con sedi distaccate a Pianiga e all'interno del carcere di Rovigo. Il provvedimento è stato disposto dalla procura al termine di un lavoro di indagine degli investigatori nei confronti del presidente della società in questione. Sul 48enne originario di Padova pendono le accuse di violazione in materia di immigrazione, caporalato e distorsione. L'uomo infatti impiegava operai senza formazione, protezioni individuali, né assistenza medica o infortunistica per prestazioni di assemblaggio ed etichettatura che prevedevano anche l'uso della pressa. Ma non è tutto, i lavoratori venivano ospitati in alloggi degradati senza cibo, vestiario adeguato o medicine. Si tratta nello specifico di 19 cittadini stranieri provenienti da Mali, Burkina Faso, Senegal, Costa d'Avorio e Guinea, giunti in Italia nell'aprile del 2023 e poi assegnati come richiedenti asilo in attesa di rilascio del titolo di soggiorno ad una seconda cooperativa con sede nel medesimo cappannone. A quel punto i responsabili della cooperativa, ora sotto sequestro, approfittando dello stato di bisogno dei migranti, li avevano costretti a sottoscrivere un patto formativo di lavoro volontario di una durata minima di tre mesi, minacciandoli che, se non avessero consentito, avrebbero perso il diritto di ospitalità e la formalizzazione in questura delle istanze per ottenere l'asilo. Le indagini sono partite a seguito di una perquisizione personale e domiciliare nei confronti di un uomo tunisino espulso dal territorio italiano l'11 giugno del 2019 e rientrato illegalmente in Italia. Proprio in quella circostanza, infatti, è stato appurato che l'uomo risultava assunto dalla cooperativa pur non essendo in possesso di un valido titolo di soggiorno. Una volta sequestrata la documentazione, è stato poi accertato come la medesima cooperativa avesse alle sue dipendenze altri cittadini stranieri che pur essendo impiegati in un vero e proprio rapporto di lavoro di natura subordinata con orari fissi e mansioni specifiche, lavoravano senza alcun titolo e senza alcuna retribuzione. Chiudiamo per ora questo triste capitolo per parlare della manifestazione che questa mattina ha visto circa una trentina di attivisti del centro sociale rivolta occupare la sede del consolato ungherese a Piazzale Roma. Le motivazioni della protesta sono risultate subito chiare dallo slogan Ilaria Salis libera subito, scritto sullo striscione. Un chiaro messaggio per sollicitare un intervento deciso da parte del governo per far uscire dal carcere la 39enne italiana detenuta in Ungheria dall'11 febbraio scorso con l'accusa di lesioni a due neonazisti. Vogliamo Ilaria libera? Subito hanno spiegato gli attivisti che aggiungono questo processo è evidentemente una farsa che vuole solo punire l'antifascismo in uno stato dove vengono non solo tollerate ma promosse le ronde antimigranti e confini e una politica antidemocratica. Il governo Meloni deve agire subito, limitarsi a chiedere un processo equo non è certo abbastanza. Ormai è quasi un anno che Ilaria Salis è rinchiusa in condizioni disumane. La testimonianza del padre, Roberto Salis, racconta di una detenzione tra scarafaggi, topi, cimici da letto a cui si aggiunge l'impossibilità di comunicare regolarmente con l'esterno. A dare la misura delle condizioni a cui è costretta la donna sono state anche le immagini del processo con Salis incatenata a poesie e caviglie. A recarsi a Budapest nei giorni scorsi in qualità di osservatori internazionali sono stati l'avvocata Aurora D'Agostino insieme al collega Giuseppe Romano. Ilaria Salis, ha spiegato l'avvocata D'Agostino, è accusata di aver aggredito due militanti dell'ultra destra che hanno avuto una prognosi che va dai 5 ai 7 giorni. In Italia si va dal giudice di pace per queste cose, si chiamano percosse da noi, non lesioni. In Ungheria invece Ilaria rischia una pena disumana, che è proprio quella che viene richiesta, di 24 anni di reclusione. Sempre questa mattina, verso le 7.30 a Z, un 19enne residente a Stra ha perso il controllo dell'auto poco dopo essere uscito di casa finendo fuori strada dentro a un fossato. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, la macchina sarebbe riuscita autonomamente dalla carreggiata mentre percorreva via Barbariga. Non è escluso che a causare l'incidente sia stata la poca aderenza delle ruote sull'asfalto reso scivoloso dalla pioggia. Il tempestivo arrivo dei vigili del fuoco ha permesso di liberare il ragazzo dalle lamiere dove era rimasto intrappolato. A quel punto gli operatori del Suem 118 hanno provveduto al trasporto in ospedale dove il 19enne, che non sarebbe in pericolo di vita, si trova attualmente ricoverato. La Guardia di Finanza del reparto operativo Aeronavale di Venezia ha sequestrato 1.400 kg di semina di vongola verale del valore commerciale di 27.000 euro. L'operazione è stata portata a termine la scorsa notte nell'ambito dei controlli volte alla repressione della pesca abusiva in laguna. Il sequestro avvenuto a Chioggia ha riguardato anche una barca dotata di due potenti motori fuori bordo attrezzata per la pesca abusiva del valore di 240.000 euro. Due le persone identificate come responsabili a cui sono state elevate sanzioni per 4.300 euro. Uno scherzo sicuramente valido ma non troppo apprezzato, quello che il meteo ha giocato al carnevale. Il maltempo si prepara infatti a fare da sottofondo agli ultimi giorni di festeggiamenti in città. Il centro marea del Comune di Venezia ha previsto già per questa sera un fenomeno di marea sostenuta, mentre domani e lunedì si ipotizzano condizioni favorevoli all'attivazione del Mose, in particolare con un picco di 120 cm sul medio mare. Il Comune fa sapere inoltre che fino al 14 febbraio sarà sospeso il servizio di posa a passerelle in caso di acqua alta per ragioni di sicurezza. Va da sé che la pioggia prevista per il weekend potrebbe comportare ritardi o annullamenti rispetto al regolare svolgimento degli spettacoli di carnevale. Nelle scorse ore sono già state cancellate le sfilate dei carri allegorici a Lido, in programma per oggi, quelle di domani a Marghera e anche quelle di Campalto previste per domenica. Le eventuali date di recupero saranno comunicate nei prossimi giorni dagli organizzatori. Infine, gli appuntamenti del carnevale di Burano sono stati spostati alla prossima settimana da martedì 13 a martedì 20 febbraio con uscite dei carri previste per sabato 17 alle ore 20.30, domenica 18 alle 15.30 e martedì 20 alle ore 20.30. Era questa l'ultima notizia di oggi, vi lascio ora ai prossimi programmi di Caffè TV 24 e vi auguro una buona visione.